Vi mostro una partita, si dice che questa partita sia stata realmente giocata da Napoleone. La partita inizia così, quindi il bianco ha appena sviluppato i suoi cavalli portare i pezzi verso il centro, il nero lo attacca quindi con questa mossa F5, H3, mossa abbastanza tranquilla, e adesso il bianco si porta con i suoi due cavalli in attacco, però chiaramente i due cavalli da soli non faranno nulla e allora interviene anche la donna. Regina H5, attacco il re, quindi lui dovrà difendere, la regina torna indietro minacciando Scacco Matto che il nero decide di difendere con il cavallo H6, quindi il cavallo va in avanti, scacco, il re si sposta, il cavallo nuovamente prende il pedone centrale, il re in una posizione molto scomoda, ma adesso il cavallo si sposta in avanti, sacrificio di pezzo, il nero è in vantaggio, nuovo sacrificio di pezzo che viene accettato, ma adesso quando il re nero è obbligato a spostarsi al centro della scacchiera, la donna arriva in D3 e troppo tardi Scacco Matto, Napoleone vince.